Musica Il Penedart è un progetto finanziato dalla regione, proposto dall'associazione cultorella del reportage ed è un evento che si basa su delle mini residenze artistiche, noi siamo partiti già da ieri, praticamente abbiamo creato un bando a cui hanno risposto alcuni artisti, un bando che mescola la riqualificazione urbana con la creazione artistica, perché da ieri ci sono diverse persone in giro per la mese terme e continueranno fino a sabato che stanno creando in diretta alcune opere d'arte, siamo partiti addirittura domenica pomeriggio a Via Dommaso Fusco con un murales ad opera di Simona Ponzu Donati, una ragazza siciliana però abita qua alla Mezzia, questa mattina ha cominciato Pierluigi Priserà, ha messo un'installazione a Piazza Mercato Vecchio e ha cominciato anche questa mattina Ambra Grassi, una ragazza che viene da Gorizia con un enorme affresco, una tela di 2 metri per 3 e nei prossimi giorni partiranno anche dei lavori a Piazza Santa Maria, all'Eco Point, ridipingeranno anche l'Eco Point e anche domani si partirà all'Istituto Manzoni-Ogruso con un enorme murales di 7 metri per 3 ad opera di un'artista romana, Alessandra Carloni, un evento a cui ha partecipato anche l'associazione Giulia Urbana. Ieri siamo partiti a San Biase, nel quartiere di San Biase alla Mesa Terme con un live di Mauro Nigro davanti alla Lenogastronomia Slow Food di Cignorelli, oggi siamo al benemerito Caffè Retro, che ormai penso che sia assodato, sia un punto di ritrovo al di là della disponibilità o meno degli altri luoghi di la Mezzia, non avremo questo discorso, però al di là degli altri luoghi di la Mezzia il Caffè Retro ormai è un punto di ritrovo culturale a 360 gradi. Oggi parliamo di Dante perché l'associazione Strade Perdute con il patrocinio del MIBAC e del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei Dettecento Anni di Dante ha creato sempre con i ragazzi dell'Istituto Manzoni-Ogruso un fumetto ispirato alla Divina Commedia. Questa mattina abbiamo presentato ufficialmente il fumetto a scuola, oggi pomeriggio lo inseriamo in un evento un po' più ampio, parleremo di Dante a 360 gradi grazie all'intervento della professoressa Marinella Vitale che ho letto qualcosa di suo su Facebook su Dante particolarmente avvincente ma anche molto profondo e molto partecipato. Ci sarà anche la parte più corriva e più ironica di Dante con la nostra Ippolita Luzzo che parlerà delle parolacce di Dante Ligieri con il libro di Federico Sanguinetti però apriamo con un altro libro, un libro illustrato che è nato sempre all'interno dell'evento Open Air Art, il libro è Ligea alla Latina, Ligea alla Greca, ognuno la lega come vuole un racconto di Rosalinda Micei illustrato da Valentina Richetta, abbiamo l'autrice e l'illustratrice che riprende così come un altro libro della stessa collana della casa editrice Librellula un racconto leggendario, mitologico, storico di Lamesa Terme, qua parliamo della sirena Ligea che ha dato origine al primo insediamento urbano del volfo di Sant'Otenia. Quindi prima di parlare di Dante parliamo di Ligea, quindi passo il microfono all'autrice del libro Rosalinda Micei. Buonasera a tutti e grazie di essere venuti e io sono... è funzionata perché non mi aspettavo che ci fosse questa seconda edizione di Ligea e tutto è partito perché io comunque lavoro nel mondo dell'infanzia quindi questo mito mi ha preso perché le fate, le sirene appunto sono sentinelle della natura e a me sta a cuore tantissimo questo aspetto. E poi è un omaggio anche a questa città, io non sono la metina ma ho fatto le scuole qui ho conosciuto la professoressa Burri che mi ha introdotto nel mondo dell'archeologia e quindi questa città mi ha dato tanto e questo secondo progetto devo dire mi ha entusiasmato perché Valentina ha saputo cogliere l'aspetto proprio delle immagini che colpiscono il mondo dell'infanzia quindi benvenga a quest'altra opportunità e la devo ringraziare tantissimo perché penso che ai miei bambini piaceranno tanto e spero che susciti loro questa curiosità delle origini della nostra civiltà e allora ringrazio per essere venuti anche se non siete il pubblico forse per questo genere di libro o forse sì, siete ancora bambini? Beh è una domanda che sto facendo, siete ancora bambini? Ecco, Daniela grazie che alza la mano. Allora, questo è un libro, vabbè, quando Anna Maria in realtà mi ha proposto di partecipare a questa collana editoriale che si chiama Librellula io l'anno scorso, anzi due anni fa ne parlammo, ne fui veramente entusiasta perché amo tantissimo un'illustrazione per bambini, mi piacciono le favole, quando si parla di fate come diceva anche Rosalinda si entra veramente in un mondo fantastico che fa parte appunto non soltanto dei bambini, ecco avevo fatto la battuta io, non soltanto dei bambini ma un po' di tutti noi da quando nasciamo fino alla nostra amata vecchiaia e quindi io ho iniziato questo percorso l'anno scorso con un'altra storia che è quella di Gelsomina e le fate del castello, una storia che ha scritto poi Anna Maria, Persico e quando mi è stata proposta anche di partecipare all'illustrazione di Licea ne sono stata contentissima, tra l'altro il libro di Rosalinda non lo conoscevo, Anna Maria mi ha portato la prima edizione, ho detto bellissimo un'illustrazione di Licea Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti